Prende la strada dei ricorsi la statizzazione del Braga da parte di Comune di Teramo, Comune di Giulianova, Provincia di Teramo e Regione Abruzzo. Ma il ricorso di fatto non sarà contro il decreto che ha provveduto alla statizzazione dell'Istituto Musicale, ma contro la previsione dello Stato di considerare a carico degli enti ogni spesa per la serie Io statizzo, tu paghi. Devo dire che è una cosa molto complessa, tipicamente italiana, perché il Tar si è pronunciato sulla statizzazione di quest'ente straordinario che è il Braga, patrimonio non solo nostro della città di Teramo, ma credo di tutto l'Abruzzo, ma credo di tutta l'Italia. Quindi c'è una comunità di intenti, però di fronte a una sentenza del Tar dove ti dice che l'ente è statizzato, ma gli oneri relativi al personale sono a carico degli enti fondatori, perché anche lì non si capisce se il partecipante non è una società, non è una fondazione, non si sa giuridicamente che cos'è, però noi poi dobbiamo far fronte, il Tar ci impone di far fronte a queste spese che sono enormi, parliamo di circa 1.600.000 euro l'anno. Su questo noi abbiamo deciso di fare un ricorso a impugnare questa sentenza, non contro la statizzazione ci mancherebbe altro, ma bensì contro questo articolo fantomatico articolo 10 dove si parla di queste spese. Io dico questo, è ovvio che poi se ne occuperanno i giudici competenti, ma il problema è politico, nel senso che noi dobbiamo mettere un'asticella dove dire chi è a favore del Braga e chi è contro il Braga, perché adesso la mano va alla politica, passa alla politica vera, cioè alla politica centrale, perché a me risulta che alcuni enti come il Braga in Italia sono stati salvati da decreti governativi, fatti entrare in finanziaria o anche altre leggi. Allora perché non fare la stessa cosa con il Braga? Noi ci aspettiamo questo e vogliamo un impegno forte da parte di tutti i parlamentari, consiglieri regionali, perché no chi ha responsabilità politica in Abruzzo, che si faccia portavoce nei propri rappresentanti romani a mandare avanti questo a benedetta o legge o decreto governativo che salvi definitivamente il Braga.